Un calciatore e allenatore noto a tutti è scomparso a causa di una malattia che ha segnato il suo percorso. La sua storia è un mix di successi e tragiche sfide. Ma chi era davvero Corrado Sorrentino? E quali sono i dettagli dietro a questo dramma calcistico che ha colpito il cuore di tantissimi? Scopriamolo insieme. Ora entriamo nella notizia. Un terribile lutto ha colpito il mondo del calcio. L'ex calciatore ed allenatore, Corrado Sorrentino, si è spento dopo una coraggiosa battaglia contro una malattia insidiosa. È con grande tristezza che dobbiamo condividere questa notizia. Un momento difficile che nessuno avrebbe mai voluto affrontare. Il mondo del calcio, in particolare quello dilettantistico, piange la scomparsa di Corrado Sorrentino. Un uomo di campo che ha dedicato la sua vita a questo magnifico sport. Cari amici, in segno di rispetto e affetto per Corrado Sorrentino, vi invitiamo a lasciare un toccante RIP nei commenti. Condividete i vostri pensieri e unitevi a noi nel ricordare questo grande uomo del calcio italiano. Il vuoto lasciato dalla sua assenza è palpabile per i suoi cari, parenti ed amici che sono stati al suo fianco fino all'ultimo giorno. Corrado Sorrentino ha lasciato un'impronta indelebile, specialmente nei cuori dei tifosi dell'Inter e Napoli. Come calciatore e allenatore ha scritto pagine importanti nella storia del calcio campano. Ma prima di continuare, se ti piace rimanere aggiornato sulle notizie più recenti, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. La sua impresa più significativa è stata portare la squadra di Pozzuoli-Napoli dalla categoria dell'eccellenza fino alla Serie D. La notizia della sua malattia ha segnato profondamente tutti coloro che lo hanno conosciuto e hanno avuto l'onore di lavorare con lui. La sua figura rimarrà una parte indelebile della storia del calcio italiano e la sua assenza sarà sentita da tifosi, calciatori e molti altri che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.